ciao come va avete finito di lavorare io alle 3 adesso mi stavo struccando che faccio la doccia poi preparo da mangiare e niente o messaggio per la falsona oggi pomeriggio in pausa dopo tanto 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 tempo che non scrivevo più perché non vale la pena perché anche scrivendo anche interagendo gli da importanza di dai ma sotto il video dove lei dice non posso non posso stare zitta questa non la posso vabbè io gli ho scritto ma scusa non avevi detto che non avresti più parlato di loro punto di domanda e poi gli scrivo va bene che tu e la verità siete nemiche avete litigato da tempo e stop basta senza alla pausa pranzo guardo c'è guardo ti arrivano lo sapete le notifiche e è un nick aveva risposto guardo il nick era un nick non era mi scrive ascoltate bene e tu quando imparerai a farti gli affari tuoi a guardare a farti una vita e poi si firma proprio con la firma della chiarona falsona mi scrive scappata di casa io te l'ho detto tante volte io so che tu guardi i video io lo so di non essere un canale wow un canale finto come il tuo con tutti le persone comprate il mio ne ho pochi ma sono tutti veri tutta gente che si è iscritta da sola a cui piace ascoltarmi quelle poche volte che faccio i video non voglio assolutamente avere un canale wow perché io lavoro ma ti voglio dire una cosa specie di 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 specie di scappata di casa a me prima di poter neanche dirmi qualcosa prima di poter parlare di me sai quante cotolette come le chiami tu con quella bocca larga quadrata e sporca perché io non so come fa a baciarti quel cornutazzo che hai la lingua con due centimetri di di felpa il vomito mi viene io non so come come fai ad avere la lingua grigio bianca comunque prima di dire scappata di casa a me io non sono quei burrattini con cui hai a che fare tu io sono io e io lo posso dire no tu io sono e allora cosa hai fatto nella vita tu cosa stai facendo cosa fai a parte mettere quel culo lurido puzzolente sul letto divano divano letto letto divano e mangiare a parte questo cosa fai sai quanto pane e devi mangiare prima di arrivare non al mio livello ma almeno a livello dell'unghia e del mio piede io ho portato avanti una famiglia con tre figli un'azienda e un marito che è sempre andato come un gioiello in palmo di mano sempre tre figli tre e non come fai tu che ne hai fatto una chissà come l'hai snaccata l'hai lasciata la tua madre da sola io sono andata a partorire la mia seconda figlia sono andata in ospedale il ginecologo mi ha detto signora lei il parto aperto di un centimetro con mia figlia con mia figlia che aveva tre anni ha aspettato perché i miei figli hanno ricevuto un'educazione che tutti ne parlano e ho detto signora lei ha il parto aperto di un centimetro si deve ricoverare ho detto scherziamo mia figlia qua ho detto ma signora ho detto guardi la porto a casa e poi vengo ma è sicuro ho detto sì sì vengo ho portato mia figlia da mia madre ho preso la borsa e sono andata ma non perché mio marito come fai tu una volta che è finito tutto cosa sputtani la gente gli butti merda fango addosso io non sono come te no mio marito lavorava non è che se ne fregavo che adesso io dico a lui no non ne sarei capace lui lavorava e non c'era motivo di rompergli i coglioni come fai tu mi sono arrangiata dopo di che l'ho chiamato è corso e ha fatto il suo dovere di papà e di marito dopo di che so quando sono andata a casa e e mia figlia aveva tre mesi mi sono accorta che ero incinta di nuovo e quando andavo a fare la spesa c'era un carrello per i bambini un carrello per la spesa e ginecologo mi ha detto signora lei appena perché li ho avuti tutti e tre col cesareo ha appena subito un cesareo da poco cioè dovrebbe stare a riposo ma come potevo stare a riposo che mio marito lavorava partiva la mattina tornava la sera e né mia madre e né mia suocera avevano come si dice il senso di essere nonne di aiutare di ritirarsi di sicché ho tirato su le maniche e mi sono arrangiata tu dici a me scappata di casa schifo di essere che non sei altro l'unica cosa che sai fare è cagare in tutti i posti dove ti trovi ma neanche i cani quelli che fai tu neanche i cani cagano come fai tu in ogni dove in ogni luogo porcheria umana scappata di casa a me e mi fermo qua perché io l'ho sempre detto ho detto solo una cosa così e basta ma se continuassi questo è solo l'inizio se continuassi ti farei vedere io quanto scappata di casa sono non ti permettere mai più perché io non te lo permetto sai io non sono quelle persone che tu eh terrorizzi ricatti eh io no con me hai sbagliato palazzo hai suonato il campanello sbagliato sai e non è la prima volta che continui a a commentare con fake con vigliacca non hai neanche il coraggio di scrivere col tuo nome falsona falsa di una falsa ma io non so come le persone si lasciano intimorire cioè io non lo so non lo so scappata di casa scappata di casa sei tu sai io mi pago l'affitto è bello alto anche perché grazie a dio come come dico sempre lavoro non chiedo soldi alla gente come fai tu non chiedo prestiti per incularli l'altro giorno siccome la macchinetta del caffè funziona con le monete non funziona con con le banconote il caffè il caffè costa 40 centesimi però se prendi il bicchiere che in parte abbiamo il distributore di acqua i bicchieri di carta sono uguali e lo metti sotto ti costa 10 centesimi meno 10 centesimi per 4 giorni sono 40 centesimi e a somma 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 io non sono come te io penso l'unica cosa che mi sveglio è la mattina e mi addormento la sera sono i miei figli anche un centesimo eppure mi tolgo gli sfizi mi compro i trucchi perché ne vado matta i profumi vado a pranzo fuori ci sono stata anche venerdì che hanno aperto un nuovo ristorante marocchino qua fanno da mangiare da dio mamma mia capito per cui mi mancavano 20 centesimi avevo 10 e una mia collega ha detto ma scherzi prendi qua ho detto no domani te li ridò ho detto ma stai scherzando no no ho detto sennò non ho più coraggio io non avrei neanche più la faccia di chiedergli di e io il giorno dopo gli ho dato 20 centesimi non li ha voluti perché mi ha detto se sono pazza che se sarebbe offesa gli ho offerto il caffè ha detto il caffè lo accetto perché mi offre un caffè ma che mi ridà i 20 centesimi no io sono così se chiedo se avessi bisogno e a parte che non lo so fare lo sapete ma se avessi bisogno e dovessi chiedere che ne so 100 euro facciamo esempio ma io il mese dopo mangio pane e pane ma glieli ridò questo vuol dire essere una donna coi coglioni o anche no essere proprio eh poi invece c'è stato un altro commento che quello invece penso che sia vero una penso una signora una ragazza che mi ha scritto eh con molta educazione e mia non che veniva eh cioè non era a favore mio però eh è giusto ognuno abbiamo un pensiero come dico sempre io e siccome io non sono ipocrita odio l'ipocrisia mi ha scritto l'opale raro una bellissima pietra sì infatti è per questo io adoro gli opali proprio ne vado matta ne avevo tre dono di una mia zia e me li hanno rubati insieme a molto altro e questa è un'altra storia e dice aspetta lei criticava in modo molto educato magari il fatto che io facessi questi video e mi ha scritto non sarebbe meglio signora che lei si trovi un hobby così per passare le giornate e io nella stessa educazione che lei mi ha scritto gli ho risposto gli ho scritto buongiorno signora a me non servono non serve trovare un hobby perché io grazie a dio lavoro per cui non ho bisogno di hobby anche se ne ho già mi piace l'uncinetto mi piace lavorare a ferri mi piace adesso ho ordinato delle cose per sistemare per abbellire non sistemare il bagno mi mancano ancora i pezzi sopra della cucina io spero spero non so quando un po' alla volta perché io la sera voglio dormire tranquilla senza pensare eh devo pagare questo devo pagare quello devo pagare voglio dormire tranquilla se non ho i pezzi della cucina ne prenderò uno alla volta ma io non sono te sai slandrona non sono te io la scappata di casa sei tu che non hai una casa continui ad andare da una famiglia all'altra zingara zozza cominciate a lavarvi che siete zozzi io vi farei venire qua ma prima di entrare vi metterei sotto la doccia col getto a 95 gradi e vi laverei poi potreste entrare a casa mia vi farei entrare solo per vedere se come dici tu io sono lo tsunami mi dici in faccia a me a me a me che ho più di 50 anni mi dici scappata di casa me lo dici in faccia e quell'altra specie di invertebrato tonto che hai accanto mi dici in faccia lo stesso commento che mi aveva scritto anni fa me lo dici in faccia poi vi metto a posto io adesso per natale poi vi faccio le foto e le pubblichiamo insieme il prima e il dopo zecche parassiti invertebrati cosa ti è rimasto adesso eh? e Danny eh si Dennis blues l'hai sfanculato carotino l'hai sfanculato ma sempre colpa degli altri eh ricordatevi bene non è colpa sua non è lei prende per il culo Dennis che piange ma quando lei piange a secco e fa le sceneggiate le tragedie greche uuuuuh a secco no allora blues carotino eh giovanni eh chi c'è stata poi? senza anima ehm vabbè Dennis Lorena chi ti resta? vabbè la sisters sisters la mia sister la mia sister per forza quella ti è amica ti vedo una volta ogni due anni che poi abbiamo capito bene invece che tipo di amica sei cosa gli dicevi? chi ti è rimasto? il tonto la tonto che prende per il culo Dennis il suo compleanno sfigato era sotto la live di fate invece di festeggiare con gli amici pensa te che sfigato ma ti sei dimenticato tu che l'anno scorso ti ha fatto festeggiare il compleanno con la polenta precota e i funghi trifolati in scatola ma razza di cretino lei si ordina le torte da cinque chili e a te ti fa il merda misu che monta la panna monta faccio le virgolette anche coi piedi col mini pimer a immersione praticamente praticamente resta una cosa liquida per forza che caga ogni due ore cioè se mangia quelle porcherie il latte che poi fermenta nella pancia già dentro quella pancia c'è di tutto c'è di tutto in quell'intestino però l'altro uno sfigato che è dovuto è dovuto andare per tutta tutta la merda che gli stava cadendo addosso che ripeto non entro in merito perché non c'ero ho il mio pensiero non so cosa è successo però conoscendo quella quella specie di cinghiala geneticamente modificata due più due fa quattro a casa mia è così per cui adesso vediamo con chi festeggia l'iso dagli occhi blu senza il codino lo stesso non sei più senza il codino lo stesso non sei più è caduto è caduto anche il cellulare è l'iso dagli occhi blu è l'iso dagli occhi blu è l'iso dagli occhi blu vediamo vediamo il mega festone che farai non si sta andando ancora non si sta andando ancora si è comprato i wuster si è comprato i salatini 41 anni e ha preso i salatini le patatini è bello potresti andare a fare la festa in asilo i bambini verrebbero matti, belli ! hai proprio preso le cose da da uomo alfa da omano di si un omano wow bello 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 e così tanto so che ascolterà il video se non chi per lei lucifer la plurimedagliata la plurimedagliata la più medagliata delle scuole è proprio un esempio un esempio come si può dire vedendo come si dice in italiano i risultati con la propria figlia possiamo immaginare come ha educato i bambini che le erano affidati infatti la plurimedagliata ricordiamoci bene che lei ha due nomi di cui non svelerà il secondo wow e così io vi auguro una buona serata io ho fatto domenica ragù ma quando lo faccio come vi ho detto lo faccio un bel po' e lo congelo tirerò fuori un sacchettino di ragù e farò una pasta che così me la porto al mangiare anche per domani portarlo al lavoro e farò così farò così mi sembrava che aveva un'altra cosa da dirvi e stavo vedendo se mi veniva in mente prima di salutare va bene comunque dicevo sono sicura che guarda il video perché lei dice ogni volta ha fatto questo ma non mi interessa non mi interessa la bocca da un orecchio all'altro non mi interessa la cotoletta principessa comunque lei non mi interessa non mi interessa però sa tutto vede tutto legge tutto e comunque come vi dicevo se non è lei è la plurimedagliata che non ha una minchia da fare tutto il giorno e si passa a rassegna tutti i video tutti io vi saluto vi 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 mando un grosso bacio buona cena buona notte buona giornata per domani e vabbè se mi verrà in mente faremo un altro video che problema c'è Un bacio, ciao!